Adesso, non sapevo di dove fare io la scaletta, Marco Ricolfi per le conclusioni. Scusi, poi c'erano le domande. E le domande, e le domande. Le domande dal pubblico mentre arriva Marco Ricolfi. Come faccio? Internet garantisce la privacy. Abbiamo il più grande degli esperti globali su questo punto. Suppongo che non sia Internet a dover garantire la privacy. E comunque credo che sia una cosa molto ampia. Ne ha parlato Stefano Rodotà, garante dei garanti della privacy. Altre domande? Zamperini ha alzato la mano ma solo per salutare. Ecco, allora Ricolfi, grazie. Concludo in piedi, anche per dare un senso giustamente del provvisorio. Ringrazio tutti. In particolare ringrazio Filippa Gren perché ha detto che il centro NEXA è modesto, è formato, è basato sulla modestia. Anche perché la modestia è una virtù della quale non ci si può vantare. Per cui, se non l'avesse detto lui, non l'avremmo potuto certamente dire noi. E però, rifletto, siamo poi così modesti? Forse no, perché we have a dream. Anzi, abbiamo tanti sogni di cui vi abbiamo parlato oggi e che abbiamo condiviso con voi. Un sogno di essere multidisciplinari. Nessuno l'ha detto, ma perché NEXA? È latino. I NEXA sono i nessi. Quindi noi ci proponiamo di studiare una rivoluzione, è stato detto da molti, una rivoluzione che forse rischia oggi una controriforma o una reazione, a molti livelli disciplinari, tecnologico, economico, giuridico. E questo è veramente un compito grosso, non modesto, che ci proponiamo. E abbiamo anche tanti altri sogni che posso ricapitolare qui, di mettere insieme ricerca, che è una cosa, perché studio, e advocacy, che è una cosa diversa ma complementare. Prendere posizioni perché le si è studiate. E combinare questo con il lavoro di insegnamento. E fare tutto questo sulla base, non di intuizioni o di riflessioni più o meno estemporane, ma di evidenze empiriche. Se voi andate sul nostro sito e andate a vedere le ricerche che sono fatte, difficilmente queste sono basate su profili teorici. Forse è il mio copyright 2.0, ma perché sono più vecchio e mi permetto questi voli pindarici. Altrimenti è un lavoro anche minuzioso, scuro, di andare a ritirare giù tutti i contratti degli SP e fare i controlli delle diverse condizioni contrattuali, grazie Valentin, e poi giungere, Andrea che non c'è, glorioso, e giungere a conclusioni basate su empirical evidence. E questo è un compito non da poco. E non siamo neanche poi modesti perché il nostro dream, il nostro sogno, è quello di avere delle partnership, come quelle con tutti i soggetti con cui abbiamo parlato oggi, il Bergman Center, piuttosto che Filippa Grein, la Commissione europea che ci ha onorato fin dall'inizio della sua fiducia, speriamo di continuare a meritarcela. E abbiamo sì una constituency, qual è la nostra base, siamo qua al Politecnico di Torino a Torino, ma abbiamo una constituency degli interessi che vogliamo rappresentare, che vanno al di là della base regionale e che, beh, Milano è sempre presentissima, oggi molti degli amici milanesi ci sono, molti altri ancora di più non ci sono, ma lavoriamo ogni giorno con loro. E però poi l'estensione è su Roma, con De Angelis, su Bologna, su Firenze, con tutta una serie di soggetti con cui collaboriamo su progetti. E questa è la base nazionale, perché poi quando si parla della partnership, beh, sul sito la lingua inglese comincia ad esserci importante, a un certo punto diventerà prevalente, perché guardiamo a Bruxelles e guardiamo al resto del mondo che fa parte dell'anglosfera. E potrei andare avanti a dirvi che i nostri sogni sono quelli di essere un think tank, anche per dare ai giovani, che fanno i ricercatori nell'accademia, qualche soldo che non sia nelle marchette della professione, ma nella riflessione scientifica, di creare delle credenziali per i giovani, se non che, non vi dico quali sono tutti questi sogni perché l'ora è tarda, ve ne dico soltanto più uno e poi ci salutiamo, effettivamente uno dei grossi sogni che abbiamo è quello di essere in grado di identificare dei temi che sono missing, che non ci sono ancora. e uno al quale stiamo pensando è di questi termini qua, in questa prospettiva. La produzione di norme, come sta cambiando nell'epoca di internet? Come si stanno spostando i livelli ottimali di decisione sotto il profilo normativo e quelli effettivi di decisione sotto il profilo positivo? e come il globale e la sovranità nazionale interagiscono secondo una logica che noi tendiamo a non vedere come una logica di o-o, di alternativa, ma invece di assemblaggi variabili nella produzione di norme, ripeto, sia dal punto di vista dell'evidenza di quello che succede, sia dal punto di vista della proposta di ottimaleità. Ed è una visione e un sogno nel quale contiamo di fare dei passi in futuro e di avere occasione di riportarvi per dirvi che cosa siamo riusciti a fare e soprattutto per raccogliere, come oggi, tutti gli stimoli che ci avete dato e di cui vi ringraziamo. Grazie. 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 Grazie.